Dopo 795 giorni, il confine tra il Marocco e i territori spagnoli di Ceuta e Melilla è stato riaperto lunedì notte. Il 13 marzo 2020, a seguito di scontri diplomatici relativi alla pandemia e alle questioni migratorie, questo delicato confine era diventato protagonista di una disputa tra i due paesi. Finalmente posso andare a trovare la mia famiglia, che non vedo da tantissimo tempo, e potrò mangiare il cibo tipico del Marocco con loro. Sono davvero felice, potrò rivedere mio figlio dopo più di un anno. A causare l'ira marocchina in particolare era stata la decisione di Madrid di accogliere in un ospedale spagnolo il leader del movimento indipendentista del Sahara occidentale, malato di Covid. Per ora potranno attraversare il confine solo coloro ai quali è consentito circolare liberamente nell'area Schelle e ai loro familiari.